Presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo del Novara Football Club, Moreno Zebi. Per lui è un ritorno in città. Andiamo a sentire quali sono le sue prime emozioni e qual è l'obiettivo di questa nuova squadra che si sta andando a costruire. Sono veramente molto contento di essere tornato qua. È un po' come tornare a casa o comunque in un posto dove ho dei riferimenti. Ho vissuto due stagioni, una stagione e mezzo con grande intensità e ho ritrovato un ambiente molto bello dove percepisco entusiasmo, una situazione societaria nuova che ha ambizioni di voler far bene e comunque di voler dare seguito al calcio in questa città. Questo mi ha chiaramente riempito di orgoglio e anche di responsabilità avere ancora un incarico così prestigioso. Ho accolto questa opportunità con un grande entusiasmo. Sono molto contento di essere qui e l'obiettivo che ci aspetta dinanzi a noi è quello di creare veramente le condizioni perché si possa creare una società, una squadra che abbia la forza di competere su tutti i campi e ogni domenica per cercare di vincere le partite. Questo è quello che vogliamo fare, lo faremo con energia e con grande determinazione, con umiltà ma con grande determinazione. Ecco, c'è un ritiro che è imminente, c'è ancora una squadra che è tanto da costruire. Quali sono gli obiettivi che ti sei posto? L'obiettivo è quello di riuscire a completare l'organico prima possibile. Questo evidentemente è un equilibrio con le opportunità che ci sono, con le trattative che stiamo portando avanti, che tengono conto anche a tanti aspetti e comunque tante compagini all'interno di queste trattative che vanno messe tutte in fila e comunque vanno centralizzate, vanno poi chiuse. Quindi i tempi tecnici di dare il mercato, non solo noi, noi vorremmo quanto prima riuscire a dare al mister un organico che sia il più completo possibile in modo da poter iniziare a fare un percorso di lavoro che ci porta poi agli appuntamenti importanti che sono quelli del campionato, della Coppa Italia prima e del campionato dopo.